Stamattina il ministro Pinotti a Genova ha parlato di lei, ha citato lei dicendo che sarebbe da citare per un danno allo Stato, per quella che è la divisione nella sinistra. Cosa risponde al ministro? Io penso che il PD sia corto di argomenti se continua con questa litania. Non è così, la sinistra è fatta di più anime, di più politiche. Il PD evidentemente ha perso consenso nell'elettorato in questi anni perché ha perso la rotta e dunque c'è come noi, liberi e uguali, che cerca di offrire un'altra possibilità agli elettori e alle elettrici che sono deluse dal Partito Democratico e quelle che hanno deciso da tempo di non andare più a votare. Allora a tutte queste persone noi offriamo un'alternativa di un partito che mette al centro la lotta alle disuguaglianze e anche un lavoro che non sia un lavoro precario ma un lavoro su cui i nostri figli e le nostre figlie possono costruirsi un futuro. E questo è molto necessario, quindi penso che fare questo tipo di critiche non abbia assolutamente senso né fondamenta.